Passiamo ora al campo lunghezza. Precedentemente vi ho fatto vedere che ho inserito manualmente la lunghezza del tratto. In realtà questa è una cosa che avrei anche potuto evitare perché mi sarebbe bastato avere qui l'elenco di tutti i tratti generati, quindi andare nella field calculator, andare a cercare la funzione di lunghezza e quindi associare e calcolare automaticamente la lunghezza di tutti i tratti praticamente già editati. Ma questo anche rientra tra le attività che possono essere rese più smart perché sempre all'interno di attribute form la parte relativa a lunghezza può essere automatizzata con l'inserimento di quelle che sono le funzioni. Sarà la stessa funzione che hai visto in precedenza, però attivata in modo automatico. Innanzitutto possiamo fare in modo che il campo sia non nullo e forzare la non nullità, tra virgolette, del campo. A questo punto possiamo andare in default value e andare a settare quello che è il dato, il valore di nostro interesse. Quindi abbiamo detto che è lunghezza e verrà inserita automaticamente la lunghezza nell'area della tab che si aprirà al termine dell'editing. Facciamo a caso anche questa opzione, apply default value on update, che spuntata fa sì che ogni volta che noi andiamo a modificare per un qualche motivo la lunghezza del nostro tratto, questa viene automaticamente ricalcolata. Quindi se io vado a modificare la geometria del tratto, questa praticamente viene ricalcolata ogni volta. Clicchiamo su ok e facciamo un piccolo test. Ecco, la lunghezza è stata calcolata automaticamente. E se io ora vado a modificarla, è 1,3222 metri, quindi poco più di un chilometro. Se io vado a modificare qualcosa, ad esempio, faccio in modo che questo sia il tratto più lungo, se ritorno nella mia tabella, ecco qui che è stata automaticamente modificata la lunghezza. Interrompo la sessione e anche in questo caso non salvo nulla. Torniamo a discutere del campo successivo, pendenza. Pendenza è un valore di tipo numerico, possiamo andarla a inserire manualmente, qualche cosa di manuale dobbiamo pure inserire, non possiamo automatizzare tutto. Però, ad esempio, il campo lunghezza, visto che è un campo che viene automaticamente calcolato, possiamo anche renderlo nascosto, così come abbiamo fatto con il campo feed. Passiamo al campo materiale. Il campo materiale è il campo che può essere più interessante, perché nel momento in cui io vado a utilizzare, ad esempio, il setup value map, posso andare a inserire qui una lista di valori e descrizione che mi consentiranno poi di editare in maniera più veloce il mio tratto, in quanto comparirà praticamente un meno attendibile da cui posso scegliere dei valori presentati. Questi valori possono essere anche importati da un CSV. Ad esempio, ho preparato un CSV con una serie di informazioni utili e quindi adesso vado a estrapolarmene direttamente dalla... Ed ecco qua. Abbiamo che in valore c'è... Vabbè, questa è l'intestazione della riga, quindi tipo descrizione. Io avevo inserito praticamente in questo CSV tre colonne, tipo descrizione e DN, che è il diametro nominale. Questa riga qui la posso tranquillamente eliminare e quindi avrò che come valore, come ve lo qui c'è il pad, PBC circolare, è una descrizione che è polietilene ad alta densità, una tipologia di condotta fognaria, posso togliere quello che non mi interessa, polivinil cloruro, altra tipologia di condotta, e circolare in calcio e struzzo vibrato, altra tipologia. Quindi, fatto ciò, spuntiamo il non null e cliccando su applica, adesso, andando a tracciare, otteniamo quello che è il materiale che possiamo andare ad aggiungere e questo anche verrà salvato automaticamente all'interno della tabella attributi nella modo in cui terminiamo la nostra sessione di editing.